Dunque siamo alla pagina sportiva che riprende dal Corriere dell'Umbria e in particolare parliamo dei mercati ovviamente in questo periodo. Grifo il terzino, sinistro Costa, il giocatore è sotto contratto con la spalla, Goretti ha incontrato a Milano il suo agente. Il 24enne era stato seguito già lo scorso inverno con Di Campli, si è parlato anche di un'altra opportunità, quella di Cullibali. Speriamo di averlo letto bene. Andiamo a parlare di volley, la Sir da Boricic, forum a casa Cev per le riforme, il presidente Sirci e il DS Resin nel Lussemburgo, tanti gli argomenti all'ordine del giorno. Si parlerà di risorse, marketing, planning e calendari sovraffollati. Torniamo al calcio, andiamo in Serie C. Palumbo resta alla Ternana, ha rinnovato il prestito del centrocampista, pressing sull'Atalanta per avere Mora, Fontanesi e Germano. Le alternative al terzino, Chiaretti primo della lista per la tre quarti. Andiamo a Gubbio, sempre restando in Serie C. E specie più no che sì, il difensore è verso l'addio. La società punta su Bacchetti e un altro centrale strutturato. In attacco chi nel lato vorrebbe restare. Farì anche su Sarau, 11 reti a Francavilla. Per le iscrizioni, riammissioni e ripescaggi, Fano e Modena sono pronti. Andiamo al mercato delle altre categorie. Per il Gualdo Casacastalda, che poi non si chiama più così, in eccellenza dovrebbe arrivare Filippo Giovi, classe 1989. L'ex Casa del Diavolo, vicino ai Biancorossi. Per il Cannara, dopo Bazzoffia, si punta Mattia. La nuova Gualdo si iscrive in prima categoria. Patarini è il favorito per la panchina. In eccellenza, la Ducato ormai vede il grande colpo in attacco. Fumata Bianca ha un passo per l'arrivo di Cardarelli. E ancora, andiamo a parlare di tiro al volo. Spadini fa suo il Silvani. Quasi 100 atleti ad Acqua Sparta per il settimo trofeo in memoria dell'Armiere Ternano. Trofeo che va all'atleta di casa, 25 su 25. Per la pallavolo, Sporting Gola, School Volley, seconda a Pineto. Parliamo di Perugia nella categoria Kids Under 10. La squadra, allenata dall'esperta Arcangeli, sale sul podio. L'atletica, Mastro Giorgio Nelli al Golden Gala con due staffette. Quindi siamo a Gubbio. E poi, sempre da Gubbio, per il Judo, il Kodokan Gubbio sugli scudi. Bastiani d'Argento a Sassari. Tiro con l'arco. Siamo a Terni. Super Vannini sul tetto d'Italia. Tricolore nell'arco istintivo 3D. Questo per il Corriere. Andiamo al Messaggero per la sua pagina sportiva. È Falletti. Siamo a Perugia, ovviamente. L'ultima idea. Monitorato il trequartista uruguagio che somiglia a Dybala. Intanto a Milano, Goretti tratta per avere Costa e Coulibaly. Il grande volley, assalto alla Champions, Sir tra le big d'Europa. E poi, Lega Pro, torniamo al calcio. Gubbio, assalto al bomber Sarao. Per il portiere c'è Mazzini dell'Atalanta. Ancora, Colombella in festa per i primi 50 anni dello storico tennis club. E poi, tornando al calcio, andiamo a Terni. È Caos, Gironi, Ternana, ancora in alto mare. La composizione dei raggruppamenti con la società Rosso Verde, che non ha ancora alcuna certezza. Il presidente della Lega, Ghirelli, potrebbe modificare i criteri e rivoluzionare il campionato di C. In eccellenza, Orvietana, la squadra ha cambiato già pelle. E poi, da Narni, la storia, i frecciatori narnesi si arrampicano sulle Dolomiti per far strada ai ciclisti. Anche loro, infatti, sono stati i protagonisti del Giro d'Italia ciclistico dei dilettanti. A Foligno, ultima puntata su Tomassini. A sorpresa, il bomber non ha chiuso con il Matelica. I falchetti si rifanno sotto la mossa di Cuccagna. Intanto è fatta per la conferma di Pagliarini. La Ternana dice di sì. Più complessa, invece, l'operazione per Colarieti. Ancora in eccellenza andiamo a Spoleto. Ducato, non solo, Cardarelli, pronti altri due colpi. E poi, mountain bike Spoleto, i ragazzini fanno il gran pieno di medaglie. Questo era il messaggero, la nazione per il suo sport. Goretti a Milano, parliamo di Perugia, stringe per Costa e Culibali. Nel quartier generale del calciomercato, il dirigente incontra l'agente del terzino sinistro e del centrocampista. Scudetto, c'è l'analisi, un successo che parte da lontano, il cammino della juniores femminile. E poi, per ancora lo sport, siamo al gubbio. Passi avanti, importanti. Il Barbetti si rifà il look. Depositati in Lega, i contratti di Malaccari e De Silvestro. Basket di A2, Umbertide confermato. Il capitano e bomber Federica Giudice. Beach Volley, Francesca Margaritelli ed Alessandro Marta brillano nel campionato italiano. In Serie C, Ternana, ore decisive per Mora, è fatta invece per l'arrivo di Fontanesi. Per il tennis, Montefalco, dove si svolgono le gare, avanzano Iorchera e Aristei. E poi, per il calcio di prima categoria, la Virtus San Giustino verso il ripescaggio. Questo per lo sport, pochi secondi, davvero la copertina del nostro meteo. Prepariamoci ad una giornata. È una giornata davvero calda perché sarà caratterizzata questa giornata da cieli sereni, poco nuvolosi su tutto il territorio regionale con temperature davvero calde. Giornata anche poco ventilata, poche ventilature, qualcuna in appennino. Le temperature, le minime tra i 18 e i 20 gradi, le massime tra i 32 e i 35 gradi. Ma attenzione, che nelle pianure della regione ci saranno punte di 36-38 gradi con una sensazione di afa, soprattutto nelle parti centrali della giornata. È davvero tutto. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento a partire dalle 19.30 con ITG. Buona giornata. Buona giornata.